Dodo, tu hai deciso di ospitare ogni venerdì sera presso il tuo locale qui a Matera in via Scania Persio, il bar Tiffany, una persona particolare, il mago Stefan di Ungherese, questo mago ungherese. Come mai la scelta di questo mago? Allora, l'ho conosciuto 16 anni fa in un matrimonio ed è stato eccezionale, è un maestro della magia, del magic cabaret. Quindi dopo le 23 il mago Stefan sarà qui? 22, 30, 23, lui con giochi semplicissimi, non solo nell'illusione ma anche uno spettacolo di cabaret. Mago Stefan, come mai a Matera? Come mai questa scelta di essere a Matera, una città piccola, tu sei ungherese. Ho lavorato tanti anni in alcune agenzie, mi fa molto piacere lavorare qui perché mi trovo bene. Ti trovi bene perché ti piacciono i materani? Certo, naturalmente, è una città molto bella. Sorridono spesso con te i materani? Certo. E fai sorridere anche noi stasera, ci fai qualche gioco illusionista? Faccio con cuore. E fai sorridere anche noi stasera, ci fai sorridere anche noi stasera, ci fai sorridere anche noi stasera. E fai sorridere anche noi stasera, ci fai sorridere anche noi stasera. E fai sorridere anche noi stasera, ci fai sorridere anche noi stasera. E fai sorridere anche noi stasera, ci fai sorridere anche noi stasera, ci fai sorridere anche noi stasera. E fai sorridere anche noi stasera, ci fai sorridere anche noi stasera, ci fai sorridere anche noi stasera. Grazie. 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 Grazie a te. Grazie. Tutto ok? Tutto ok credo. Ah il mio cellulare, ridammelo perché questo è prezioso. Grazie.